Siamo ad Ardea, è il 509 a.C., è una sera d'inverno piuttosto fretta, una sera che sembra una delle tante di un assedio che ormai si protrae da anni e che Tarquinio, il superpo, ha voluto porre alla città per poter rimpinguare le tasse dello Stato completamente defedate dalla sua ambiziosa politica di lavori pubblici. Ci si annoia, ci sono i giovani figli del re con il loro cugino, ci sono Sesto, Tito e Runtè, il loro cugino Tarquinio con Latino, bevono, chiacchierano, fare passare il tempo e la conversazione a un certo punto cade sulle donne e si trasforma presto in una sfida, ci si chiede quale moglie sia la più cassa di tutte. Sono giovani, rischiano, decidono un po', insomma hanno bevuto forse probabilmente, quindi questo ha dato loro il coraggio di farlo, abbandonano il campo e decidono di andare a verificare personalmente a Roma come stanno le cose. Prima si recano a Roma dove trovano le principesse che trascorrono il tempo, consumano il tempo, anzi dice Tito Livio che è la fonte principale di questa vicenda, immerse in banchetti con le loro amiche. Dopodiché puntano verso Collazia, il borgo dove vive Collatino, che la famiglia di Collatino gestisce come un feudo personale ai fini dei tempi in cui è stato conquistato e qui la scena che si presenta ai loro occhi è diametralmente opposta. Lucrezia, la moglie di Collatino, non consume il suo tempo ma anzi, nonostante sia piena notte, se ne sta nel latro della casa a filare circondata dalle ancelle e la luce chiocca di una lanterna perché è ancora notte. Naturalmente ha vinto Collatino, aveva ragione, Collatino aveva spinto i suoi amici a partire per Roma perché sapeva che avrebbe vinto di sicuro, però paga un prezzo molto caro per questa vittoria e il prezzo è la stessa vita di Lucrezia. Sesso Tarquinio, colpito dalla bellezza, lì dice dalla forma, che è il termine latino per indicare la bellezza, e dalla spettata castitas di questa ragazza, un po' forse anche preso da un senso di ribarsa, lì domani mattina si rega da Lucrezia, si fa ricevere con l'inganno e le usa violenza. Da questa violenza naturalmente scaturiranno, come ha anticipato anche Cizia Manfredi, una serie di eventi perché Lucrezia non sopporterà, diciamo ancora così, semplicemente di sopravvivere a quest'onta, si suicida e il suo suicidio innesca una rivolta popolare da cui poi, come sapete, la monarchia avrà fine e si istituirà la Repubblica. Questa è la vicenda. La vicenda che è un racconto di grande significato, di grande significato civico proprio per il valore che ha nella storia di Roma, ma anche di grande valore etico perché dipinge la figura, un ideale di donna che resterà nei secoli e passerà anche attraverso il crivello del cristianesimo intatto, cioè la donna, come ci ha raccontato prima, utilizzando proprio la terminologia latina precisa, la nostra regista, che comunque è anche una collega, se mi sembra di aver capito, no, va bene, è una donna fedele, casta, capace di sacrificare la sua stessa vita alla fedeltà coniugale. Non è un racconto, semplicemente un racconto proprio per questa ragione, ma potremmo definirlo un mito, nella misura in cui, come scrive Lentano, il mito, voglio citare esattamente le sue parole, un racconto nel quale un'intera cultura ha riconosciuto per secoli i contenuti fondanti della propria identità e quindi proprio per questa ragione è capace di attraversare i secoli, restando sempre vivo e noi troviamo riprese di Lucrezia nella letteratura da Ovidio a Simone de Beauvoir, la troviamo anche nelle arti figurative, un esempio è proprio la copertina, la offre, la copertina di questo libro che è una rappresentazione di Lucrezia raffigurata da Sodoma, ma ce ne sono tantissimi da Sodoma, Tintoretto, Rubens, Tiziano, persino sui cassoni per il corredo delle spose in età rinascimentale e comparivano raccontate le vicende di Lucrezia e a volte era proprio, sono stati artisti importanti ad averle decorati come Brunelleschi o come Filippino Lippi. Ora le fonti non ci dicono pressoché nulla di Lucrezia, al di là di questa notte maledetta che va dal momento in cui Sesto Tarquinio si incapriccia di lei è il momento del suicidio e quindi al di fuori di quello che interseca, dei momenti in cui la sua storia personale interseca la storia pubblica di Roma non sappiamo niente. Sappiamo che era bella, lo dice Livio, e Orazio, scusate, mio video declina la bellezza di Lucrezia secondo i canoni tradizionali, la dice bionda con la carnagione chiara e priva di qualunque artificio. Doveva essere giovane perché non aveva figli. A Roma le donne si sposavano giovanissime, non appena fossero in grado, secondo un aggettivo latino, di reggere un uomo, cioè appena fossero viripotenze. Quindi nonostante questo però ci potrebbe stupire il titolo che Mario Lentano dà a questo libro, anzi il sottotitolo Vita e morte di una matrona romana, come si fa a raccontare la vita di una persona di cui non sappiamo nulla. Lentano riesce a farlo proprio grazie alla sua profondissima conoscenza della cultura romana per cui riesce a raccontarci non quello che fu ma quello che avrebbe potuto essere la vita di Lucrezia, cioè la vita di una donna. Se noi nel primo capitolo, che si intitola proprio diventare donna, diventare moglie, la scrittura di Lentano ci conduce dentro una casa nobiliare in cui sta avvenendo al mondo una neonata. Vediamo le persone che si muovono attorno a lei, sentiamo le voci attorno a lei, scusate ancora alla mamma, no? Alla partoriente, poi alla bambina e poi segue la bambina lungo tutte le tappe importanti della sua vita, al momento del matrimonio. La lascia lì, il capitolo si conclude con questa giovane fanciulla sulla porta di casa con in mano un mazzetto di maggiorana che era il fiore che si utilizzava nel bouquet delle spose e il suo bellissimo velo rosso. Ma non soltanto quando parla della vita, ma anche quando parla della morte di Lucrezia Lentano ci fa vedere dietro l'icona la donna, perché lo fa in vari modi, lo fa innanzitutto interrogandosi proprio alla luce della giurisprudenza della biologia antica sul senso vero di questo suicidio. Lo fa ricostruendo il mondo maschile che si muove attorno a Lucrezia e che condiziona la sua vita e la sua morte. Lo fa anche, non so, pensate che c'è, lo avete già, lo abbiamo già accennato, noi abbiamo qui un marito che la espone alla violenza, una persona che le fa violenza e poi anche il Bruto, che è il terzo, dopo con l'attività del senso Tarquino, che in qualche modo approfitta del suo corpo violato, esponendolo nel foro per poter suscitare l'ira del popolo e quindi la rivolta popolare, per poi dimenticarsene completamente una volta che l'ha fatto. Lo fa anche dando spazio a una lettura interessante, una lettura revisionista che fa Sant'Agostino di questa vicenda di Lucrezia, perché Sant'Agostino si presenta come l'archetipo dell'avvocato difensore degli superatori moderni, perché Sant'Agostino cerca di, si interroga se veramente Lucrezia fosse innocente, perché a suo dire è impossibile che se lei veramente è innocente si possa ora macchiare di una colpa così grave come quella di uccidere una persona innocente uccidendo se stessa. Quindi ecco, insomma, questo mi sembra molto molto interessante, ci sono tantissimi spunti, poi leggendo il libro che non l'abbia ancora fatto se ne potrà accorgere da sé. A questo punto io chiedo, e non so se prima Mario forse vuole salutare o se ti pongo già la domanda e poi fai tutto tu, ma bene, io direi che potremmo cominciare a discutere proprio a partire da questo concetto di mito, di come si possa leggere come un mito, come tu lo definisci, la vicenda di Lucrezia. E poi tra l'altro bisogna dire che nelle fabule di Gino, Lucrezia è inserita in un capitolo di donne famose per la loro pudicizia, perché c'è Penelope, c'è Laodamia, Evadme, quindi forse possiamo cominciare da qua, visto che si pensa che i romani il mito non lo conoscevano nemmeno, visto che non raccontano di dei e di eroi. Grazie. Allora sì, naturalmente mi corre l'obbligo, ma al di là dei doveri, della cortesia, c'è un piacere personale nel farlo, di ringraziare Luca Mancino e Cinzia Manfredi, insomma e tutti gli amici del Club di Cultura Classica per questo invito che rinnova una consuetudine che ormai si protrae da alcuni anni e che quest'anno torna a realizzarsi nella forma della presenza, che è quella che evidentemente a tutti quanti noi è più congeniale. Siamo degli umanisti anche perché amiamo, insomma, le forme in cui l'umanità si realizza e la socialità, la socialità in presenza è sicuramente una di queste forme. E naturalmente grazie infinitamente anche a tutti coloro che sono usciti di casa per venire qui ad ascoltarci stasera e anche a quelli che ci dovessero seguire da remoto. Grazie naturalmente alla professoressa Urso per aver accettato di presentare questo tema e per la onorevole, onorevolissima direi, l'usinghiera introduzione che ne ha fatto. Rispondo molto brevemente a questa prima domanda perché magari poi ci soffermeremo più a lungo su altre questioni che riguardano più specificamente questo racconto. È vero quello che diceva la professoressa Urso, molto spesso dei romani si è detto che non hanno dei miti. Magari sostenendo che i romani erano gente pratica, erano gente che badava a coltivare la terra, erano contadini, erano soldati, erano conquistatori, non si perdevano dietro così questi racconti favolosi, queste storie fantastiche, anche piuttosto poco credibili, ambientate in un passato nebuloso e leggendario, insomma i romani ci hanno lasciato il diritto, ci hanno lasciato cose serie, cose importanti, insomma non questi racconti magari affascinanti ma tutto sommato così meramente letterari. Ora oppure qualcuno addirittura, grandissimo studioso di religione romana che si chiamava Giorgio di Mesil, addirittura sosteneva che in realtà i romani li avevano anche avuti questi miti nella loro preistoria, solo che ad un certo momento se li erano dimenticati, insomma e quindi distratti evidentemente dalle incombenze che sempre comporta l'onere di conquistare il mondo, che non è una cosa insomma che richieda poca attenzione, ad un certo momento avevano finito per scordarsi questo loro patrimonio di racconti. Ora io credo che in realtà come spesso succede è una questione di definizioni, tutto sta a capire come noi definiamo il mito. Allora se noi con mito intendiamo un racconto ambientato in un'epoca remota e anche difficile da definire del passato, i cui protagonisti sono divinità ed eroi, cioè figure in qualche misura sovrumane che eccedono la consueta misura umana, allora non c'è dubbio che i romani hanno avuto ben pochi miti, Enea, Romolo e sostanzialmente l'elenco, il catalogo è questo come direbbe il personaggio mozartiano. Se però noi diamo una definizione più generosa, più a maglie larghe del concetto di mito e intendiamo con mito una storia fondante, come ha detto un grande studioso insomma contemporaneo, cioè una storia che continua a essere raccontata nel corso del tempo, perché la cultura che ha elaborato quella storia capisce che dentro quella vicenda c'è qualche cosa di importante che racconta la cultura stessa, quella storia dice qualche cosa di importante su di noi e quindi merita di continuare ad essere raccontata, ad essere trasmessa di padre in figlio, di madre in figlia naturalmente, a entrare nella letteratura, nella poesia, a entrare nelle rappresentazioni iconografiche per cui questi racconti possono ispirare delle statue o dei dipinti e così via, perché dentro quei racconti si intuisce che c'è qualche cosa di importante. La professoressa Urso diceva giustamente che la fonte principale della vicenda di Lucrezia, è uno storico latino molto importante, Tito Livio, che vive a cavallo tra primo secolo avanti Cristo e primo dopo Cristo. Livio scrive una enorme, gigantesca storia di Roma che quando era completa, non è arrivata completa fino a noi, ma quando era completa comprendeva la bellezza di 142 libri e partiva dalla fondazione di Roma a metà dell'ottavo secolo e arrivava fino al 9 avanti Cristo, cioè fino all'epoca di Livio stesso, quindi comprendeva sette secoli e mezzo di storia, 142 libri e lui all'inizio del primo libro si pone questo problema, lui dice io voglio scrivere un'opera seria di storia, ok? Che cosa devo fare di tutti i racconti sull'origine di Roma, la lupa, i gemelli? Li devo raccontare o no? Lui se lo pone, lo pone espressamente questo problema e ci dice anche come lo ha risolto, ce lo dice con una formula un po' così apparentemente sibillina o salomonica, lui dice ho ritenuto che questi racconti non si possano né accettare né rifiutare. Che cosa vuol dire questa frase? Beh probabilmente vuol dire questo, non si possono accettare nel senso che è chiaro che sono dei racconti falsi, è chiaro che non c'è mai stata nessuna lupa che ha allattato i gemelli di Roma e non c'è stata probabilmente nessuna Lucrezia che una notte di febbraio è stata violentata scatenando così una rivolta che ha portato alla caduta della monarchia e all'istituzione della Repubblica. Tutto questo fattualmente è falso, però al tempo stesso questi racconti non si possono rifiutare, non si possono scartare, perché se io li scartassi, sembra dire Livio, tu lettore ti verrebbe a mancare a te lettore un dato importante per capire la storia che io ti voglio raccontare. La storia di Roma, l'identità, la cultura, l'immagine di Roma, il significato che ha questa esperienza storica risulterebbe mutilo, manchevole, deprivato di un dato fondamentale se questi racconti venissero eliminati per la banale ragione che sono falsi. Sono state false certo sul piano fattuale, ma chi l'ha detto che il piano fattuale è l'unico che uno storico debba prendere in considerazione? Se si vuole capire Roma, se si vuole entrare profondamente nell'anima dei romani, bisogna passare anche attraverso queste storie. Diventare donna, diventare moglie. E quindi io ti chiedo Mario che cosa significa diventare donna essere una donna al tempo dell'antica Roma, perché tu nel primo capitolo fai una sorta di breve sintesi, breve di necessità ma molto efficace su tutto questo, no? Dipingi questa società in cui anche le formule giuridiche, il vocabolario stesso, sottolineano la sottomissione della donna all'uomo, un modo in cui il matrimonio può essere concepito come una coenzio, cioè come una compravendita, in cui le divinità che presiedono all'unione tra l'uomo e la donna possono avere dei nomi come subigo e prema, che sono evidentemente allusivi della sottomissione della donna. E soprattutto ti chiederei di spiegare, di soffermarti un po' anche su questo aspetto del nome, che è qualcosa a cui magari noi non pensiamo, ma il fatto che alla donna nel mondo romano fosse vietato pure un nome proprio, quello, no? Poteva magari averlo ma non usarlo. E questo insomma quando ti si rega il nome, quindi ti chiederei se è possibile, insomma nei limiti del tempo che ci è concesso, di darci un ragguaglio su questi elementi. Grazie. Allora sì, il problema era quello che la professoressa poneva prima, cioè come si fa a raccontare la vita di una donna della quale conosciamo solo la morte, di fatto. Cioè conosciamo soltanto il suo ultimo giorno di vita, che è anche quello che immediatamente precede la morte. Beh evidentemente non possiamo raccontare la nascita, l'infanzia e la fanciullezza, come vedrete tra un attimo non si va molto oltre, di Lucrezia, per l'ottima ragione che le fonti antiche non hanno ritenuto di raccontarcela. Però possiamo provare a immaginarla, mettendo insieme, quello che sappiamo sulla condizione femminile nella cultura romana arcaica. Beh intanto il fatto che nasca una donna non significa necessariamente che quella donna sopravviverà. Al fondatore Romolo veniva attribuita una legge secondo la quale Romolo avrebbe imposto alle famiglie romane di allevare tutti i maschi, ma tra le femmine solo le primogenite. Quindi già Romolo avrebbe stabilito che tutti i bambini maschinati erano destinati a sopravvivere, quantomeno per quello che dipendeva dalla volontà dello Stato, diciamo così, e della famiglia, mentre tra le donne dovesse sopravvivere soltanto la primogenita. Ma in realtà noi sappiamo che venire al mondo non basta nel mondo romano, la nascita biologica è soltanto il primo atto, perché un bambino possa dirsi veramente nato è necessario un secondo atto, ed è l'atto con il quale il padre, ai cui piedi il nuovo nato viene deposto sulla nuda terra, il padre lo solleva, lo prende in braccio. Quel gesto sta ad indicare che il padre accetta che il figlio o la figlia vengano allevati. Tanto è vero che in latino il verbo che significa sollevare, tollere, finisce per assumere il significato di avere un figlio. Quando i romani volevano annunciare ai loro amici che avevano avuto un figlio, potevano dire, lo sai, ho sollevato un figlio. Una frase che letteralmente significava questo, perché in effetti il mero fatto di venire al mondo non era sufficiente, bisognava che il padre confermasse o disconfermasse questo dato meramente biologico attraverso la scelta di sollevare il bambino. E se non lo faceva? Se non lo faceva significava che il bambino doveva essere esposto, cioè abbandonato sostanzialmente sulla pubblica via, alla mercè della carità pubblica, ma sappiamo che nella stragrande, è facile immaginare che nella stragrande maggioranza dei casi questi bambini esposti in realtà finissero per morire di stenti, di freddo, di fame e così via. Quindi già non era scontato che una bambina una volta venuta al mondo potesse crescere. Poi naturalmente non mi ha dimenticato che stiamo parlando di una società pre-industriale, cioè stiamo parlando di una società nella quale l'incidenza della mortalità infantile è enorme, è enorme. Ci sono degli studiosi che si sono presi la briga di esaminare migliaia e migliaia di epigrafi funerarie, perché ne abbiamo tantissime nel mondo romano, semmai vi è capitato di osservarne qualcuna, in almeno ogni museo archeologico almeno un epigrafe romano c'è sempre e forse vi sarà capitato di osservare che i romani erano molto scrupolosi nell'indicare non soltanto gli anni di vita, ma spesso addirittura i mesi e i giorni. Vixit annos tres, menses quattro, ha vissuto per tre anni, per quattro mesi e così via. E quindi ci sono studiosi che si sono presi la briga di esaminarne a migliaia di queste epigrafi per cercare di ricavare un campione statistico e da questo campione statistico viene fuori che soltanto un bambino su dieci nati raggiungeva l'età adulta, quindi l'incidenza della mortalità infantile o della mortalità nei primi anni di vita era un'incidenza enorme, quindi Lucrezia aveva dovuto superare un secondo ostacolo che era quello delle malattie infantili, delle infezioni insomma di tutte le calamità contro le quali evidentemente la società antica non aveva nessun tipo di strumento curativo, terapeutico e che quindi falcidiavano le nuove generazioni. Ma lei era riuscita a sopravvivere anche a questo per sua fortuna e come ci dobbiamo immaginare la sua infanzia, la sua fanciullezza? Probabilmente ce la dobbiamo immaginare come una lunga educazione al ruolo, cioè come una fanciullezza nella quale una ragazza romana cresceva con una madre che le spiegava che cosa la sua cultura voleva da una donna e che cosa voleva da una donna? Voleva che fosse casta, domiseda, lanifica, cioè che si dedicasse alla filatura della lana, che rimanesse in casa, che non frequentasse lo spazio pubblico, che è uno spazio squisitamente maschile invece, e soprattutto virtù fondamentale di una moglie romana che fosse fedele al marito, ma probabilmente su questo torniamo quindi non ci soffermo. Questo era il compito fondamentale che una sposa romana aveva e dobbiamo presumere che le madri romane raccontassero questo, magari raccontavano a loro volta delle storie, anche Lucrezia poi ad un certo momento deve essere diventata una storia che le madri romane raccontavano alle loro figlie per far capire che cosa la loro, la cultura della quale facevano parte si aspettava da loro. Tutto questo però finiva molto presto perché, come appunto già si accennava, una ragazza in base alla legge romana, una ragazza poteva andare in sposa già a 12 anni, sostanzialmente in coincidenza con il menarca, con l'inizio della pubertà, con l'avvio delle mestruazioni. Una cosa che probabilmente a noi sembra anche profondamente ripugnante, probabilmente ci ricorda certi fenomeni di spose, bambine presenti in culture dalle quali volentieri prendiamo le distanze e non c'è dubbio che sia una cosa piuttosto raccapricciante. È importante capire che però questo dal punto di vista dei romani era fondamentalmente motivato dalla urgenza, dalla necessità, dall'opportunità di approfittare il più possibile della fertilità di una donna, della fecondità di una donna. È talmente importante garantire che almeno un figlio tra i tanti che uno mette al mondo sopravvivesse, era talmente importante che non si poteva perdere tempo, non si potevano lasciare, diciamo così, dei periodi di potenziale fecondità, di potenziale fertilità che andassero sprecati. La capacità di una donna di generare la vita doveva essere sfruttata sin dal primo momento e questo non solo in età arcaica, pensate che all'epoca dell'imperatore Augusto, l'imperatore che emise, ma no, anche una serie di leggi, diciamo così, a favore della natalità, stabilì l'obbligo per le vedove che avessero meno di 50 anni di risposarsi, nonostante i romani idealizzassero le donne che avevano avuto un unico matrimonio nel corso della loro vita, ma anche lì era opportuno sfruttare fino in fondo, ecco lì si trattava di arrivare a, appunto, a valorizzare persino gli ultimissimi anni della fertilità femminile. Quindi, e poi c'era il matrimonio, appunto, e il matrimonio, insomma, i romani, appunto, erano gente pratica. Noi conosciamo qual era la formula matrimoniale, cioè la formula attraverso il quale la famiglia della sposa si impegnava a cedere la futura sposa al futuro marito. Il padre della sposa pronunciava una formula che tradotta letteralmente, non ve la cito in latino, ma tradotta letteralmente significa io ti do mia figlia affinché tu ne abbia, tu ne possa ricavare, ne possa ottenere dei figli legittimi. I romani non parlavano di amare, onorare per tutto, non parlavano di salute, malattie, eccetera, eccetera. Il matrimonio dichiarava senza infingimenti, senza romanticismi, diciamo, e senza giri di parole, la propria finalità eminentemente riproduttiva, volta appunto a garantire la famiglia del marito dei figli legittimi. Probabilmente Lucrezia è cresciuta, è nata, è cresciuta, è vissuta così. Quindi probabilmente quando le è successa questa storia qui, questa storiaccia della quale è stata vittima, doveva essere una ragazza di 15, 16, 17 anni, non di più, appena sposata perché non aveva ancora figli appunto, quindi c'è da presumere che fosse appena sposata. Il nome, ultima questione che era stata posta. La questione del nome è interessante. Noi siamo abituati a pensare che nomi come Claudia, Giulia, Lucrezia, siano dei nomi propri, perché lo sono diventati in italiano. In latino questi non sono nomi propri, in latino sono dei gentilizzi. Sapete che il nome romano è formato da tre elementi, insomma, nella struttura standard. C'è il cosiddetto prenome Publio, Gaio, Marco, Lucio, c'è il cosiddetto gentilizio, il nome della gens, della famiglia allargata, Giulio, Tullio e così via, Lucrezio, e poi c'è il cognome, va bene? Ora una donna romana non aveva il nome proprio, non ce l'aveva, o se ce l'aveva questo nome non era usato. Le fonti ci dicono entrambe le cose, ci sono fonti che dicono che le donne non avevano il nome proprio, ci sono fonti che dicono che lo avevano ma non era utilizzato, il che equivale sostanzialmente a non averlo. Venivano designate con il femminile del gentilizio del loro padre. Lucrezia si chiama Lucrezia perché suo padre si chiamava Scurio Lucrezio Tricipitino, la figlia di Cesare si chiama Giulia perché suo padre si chiamava Gaio Giulio Cesare, la figlia di Cicerone si chiama Tullia perché lui si chiamava Marco Tullio Cicerone, quindi si prendeva il gentilizio del padre e lo sivolgeva al femminile e quello era il nome della figlia, il che vuol dire che tutte le donne della famiglia della Gens Lucrezia si chiamavano tutte Lucrezia, tutte. Se ne nascevano due per ipotesi all'interno della stessa famiglia le si distingueva in maggiore e minore o prima e seconda, ma si chiamavano tutte allo stesso modo e capite bene che questo è un elemento importante perché il nome non è evidentemente soltanto un fatto di mera designazione, avere un nome non è semplicemente una cosa che serve a chiamare qualcuno, avere un nome significa anche avere un'identità e noi lo sappiamo bene, tanto è vero che è difficile che una famiglia ancora oggi scelga il nome da dare ad un figlio aprendo l'elecco telefonico, si sarebbe detto una volta, questo rivela tutta la mia età, e puntando il dito a casaccio e vedendo dove cade e dicendo la chiamiamo Cinzia perché è caduto lì il dito. Di solito una delle prime cose sulle quali una coppia litiga è quale nome dare al proprio figlio, alla propria figlia, ma se questo succede, succede anche perché noi siamo convinti che il nome non sia un mero designatore, altrimenti potremmo chiamare anche insomma in qualsiasi modo insomma un figlio. Il fatto che le donne romane non avessero un nome proprio, un nome che le identificava in quanto quella precisa persona e non altre, ma anzi avessero un nome squisitamente collettivo, un nome che le appaiava tutte le altre donne se non altro della loro genza, beh questo già ci dice qualche cosa di molto importante e anche di molto inquietante sulla condizione della donna romana. Casualmente ho qui un'iscrizione, un'iscrizione latina che fa un po' la sintesi di tutto questo. Qui giace Vetturia, una matrona, moglie di Fortunato e figlia di Vettuglio. Quando la sventura mi accolta avevo soltanto 27 anni, di cui 16 trascorsi con il mio sposo. Fate la sottrazione. Ho dormito soltanto con un uomo, ho conosciuto soltanto un marito, 27 anni. Dopo sei parti sono morta, soltanto uno dei miei figli è sopravvissuto. Questo veramente, casualmente avevo questo appunto, ma è una sintesi di tutto questo. Non ci crede nessuno. Ma comunque, cosa vuoi dire? Non pensavo che avresti detto questo. Comunque, e poi c'è un'altra cosa che volevo aggiungere a proposito della scelta, no? Di fare, di lasciare in vita un bambino o no? E questo viene dalla mia lettura dei testi medici, dei testi ginecologici, che già l'allevatrice stabilisce, una volta che il bambino nasce, se è il caso che questo bambino debba continuare a vivere, cioè se ha tutte le doti per poter essere allevato. Nei testi di ginecologia c'è un capitoletto che dice se, come si può riconoscere il bambino che deve essere allevato, quali sono i segni vitali per cui vale la pena li tenersi al morto. Quindi, veramente. Va bene, passiamo ad un'altra questione che è di grande interesse, la detta suicidio di duprezza. Perché la questione del suicidio non è così semplice come può sembrare all'inizio, no? Ci sembra immediato trovare una risposta per spiegare perché sia avvenuto, ma già i parenti di Lucrezza si chiedevano come mai lei avesse deciso di togliersi la vita una volta che era innocente ed era la vittima di questa situazione. Poi sono state date interpretazioni diverse, no? Ne abbiamo visto prima rapidamente, poi ci torneremo perché merita di essere ripresa, l'interpretazione di Agostino, che come seconda alternativa dà soltanto quella che Lucrezia possa avere peccato d'orgoglio, cioè che non avesse tollerato che si potesse mettere in dubbio la sua onestà. E c'è l'interpretazione di Simone de Beauvoir che fa apparire questo suicidio come così quasi come un atto sterile di affermazione di sé, no? Tutto un atto immaginio è l'unica cosa che è consentita all'oppresso, l'unica possibilità che ha di rivolta. E invece questo suicidio di Lucrezia è molto importante e sono le parole che lei usa al momento di morire che danno la chiave di lettura giusta. Su questo ti sei soffermato ed è un'interpretazione molto interessante, molto nuova, quindi ti chiederei di illustrarla. Grazie, sì questo è davvero il punto chiave insomma del discorso, poi vediamo se ci avanza il tempo insomma ce lo diranno gli organizzatori per affrontare ancora qualche altro, qualche altro punto. Però questo è un punto davvero chiave, è anche un punto sul quale si misura bene la distanza diciamo tra noi e gli antichi. Allora quando quando Lucrezia manda a chiamare i suoi familiari perché vuole raccontare la sua storia, vuole raccontare quello che è successo e quindi fa venire il marito Collatino, fa venire il padre Spurio Lucrezio chiedendo a ciascuno di loro di portare un amico fidato a testa e quando questi quattro uomini arrivano lei racconta la sua storia, racconta della violenza che ha subito e dice il mio corpo è stato violato, il mio animo però è innocente e la morte me ne sarà testimone. Quindi già lascia intendere con questa affermazione quali sono le sue intenzioni, poi si scoprirà di lì a qualche istante che lei ha nascosto sotto il vestito oppure secondo un'altra variante sotto il cuscino del letto, un pugnale pronto per conficcarlo nel petto. In quel momento ancora i suoi familiari non lo sanno ma lo intuiscono da questa frase inquietante di Lucrezia, la morte me ne sarà testimone. E Livio dice cercarono di consolarla e di dirle ma la colpa non è tua, tu hai subito una violenza e laddove manca l'intenzione non ci può essere colpa. Insomma questi familiari di Lucrezia fanno un discorso che è molto moderno che anche noi potremo condividere perché anche il diritto contemporaneo dice che laddove manchi la volontà evidentemente, l'intenzionalità di compiere una certa azione, la gravità di quell'azione viene fortemente depotenziata, in questo caso addirittura viene cancellata. Quale può essere la responsabilità, a meno che non si sia Sant'Agostino, quale può essere la responsabilità di una donna che ha subito violenza? È chiaro che quella donna... e Lucrezia risponde con una frase piuttosto, piuttosto diciamo bizzarra per certi versi persino incomprensibile perché lei dice io mi assolvo dalla colpa, mi assolvo dalla colpa, cioè avete ragione io non sono colpevole ma non mi esimo dalla pena. Da questo momento in poi non ci deve essere nessuna donna romana che vivrà da svergognata, da impudica, da disonorata, adducendo il precedente di Lucrezia. E questa cosa in effetti insomma non è immediatamente comprensibile. Allora io credo che per comprendere fino in fondo questo punto noi dobbiamo guardare a un passaggio del testo latino, cosa che naturalmente voglio dire non mi infliggerò adesso, ma insomma c'è un punto del testo latino che ci dà una chiave di lettura importante di questa scelta apparentemente incomprensibile di Lucrezia e che rischia quasi di sfuggire all'attenzione se uno legge un po' spettolosamente. Perché nelle parole che Lucrezia usa per raccontare ai suoi familiari la violenza di cui è stata vittima, lei dice ad un certo momento è stato Sesto Tarquinio, il figlio del re Tarquinio del Superbo, che è entrato, si è introdotto in casa mia sotto le mentite spoglie di un ospite, mentre in realtà era un nemico, e che mi ha usato violenza. Voi giuratemi che l'adultero non se la passerà liscia. Chiede ai familiari un giuramento di vendetta e uno legge questa frase e all'inizio magari non ci fa neanche caso, poi però se guarda con un attimo di attenzione dice ma adultero, ma in che senso adultero? Nessuno di noi oggi definirebbe adultero uno stupratore, perché per noi l'adulterio è un rapporto sessuale che magari possiamo giudicare moralmente condannabile, ma che sicuramente avviene tra due persone consenzienti, che sanno perfettamente che cosa stanno facendo. È difficile che uno commetta adulterio senza accorgersene, diciamo così. Di solito chi commette adulterio sa perfettamente che cosa sta facendo. E quindi dal nostro punto di vista c'è una netta distinzione fra l'adulterio da un lato e lo stupro dall'altro. Invece Lucrezia, quando deve definire sesto Tarquinio, non lo chiama stupratore e non perché il latino non abbia una parola per indicare lo stupratore, perché ce l'ha. In latino si dice raptor per indicare la persona che ha fatto, commesso una violenza carnale. Invece lei lo chiama adultero, adultero appunto. Perché succede questo? Ecco, questo è il punto che dobbiamo capire. Ora cerco di spiegarlo molto rapidamente perché non voglio abusare della vostra pazienza. Allora, il punto sta nel modo in cui i romani concepiscono l'adulterio. La parola latina adulterio, adulterium, viene da un verbo adulterare, che è un verbo che si usa anche in italiano. Lo usiamo per esempio a proposito del vino, per dire che il vino è stato adulterato. Va bene? Che cosa vuol dire adulterare? Adulterare è a sua volta un composto, è un verbo composto. Perdonatemi questi brevi cenni di latino, ma insomma cercherò di renderli il più indolore possibile. Adulterare è un composto di ad più alterare. E che cosa vuol dire ad più alterare? Vuol dire che io altero qualcosa attraverso una aggiunta. Quel prefisso ad sta ad indicare il fatto che io aggiungo qualche cosa. Ma adulterare non significa semplicemente alterare qualcosa attraverso un'aggiunta, perché altrimenti anche il caffè latte dovrebbe essere considerato un'adulterazione del latte, perché io al latte ho aggiunto il caffè. In adulterare c'è anche un'implicazione, l'idea che quello che risulta dall'aggiunta di un altro elemento all'elemento preesistente è un peggioramento della situazione preesistente. Adulterare non vuol dire soltanto alterare mediante un'aggiunta, significa alterare mediante un'aggiunta che rende peggiore quello che c'era prima della adulterazione. Ok? Ci siamo fin qui. Questo significa il verbo adulterare. Ora potremmo chiederci, nel caso dell'adulterio inteso come relazione sessuale tra due persone che non dovrebbero avere una relazione sessuale, che cosa, qual è l'elemento adulterato, diciamo così, e qual è l'elemento adulterante? Qual è la cosa che si aggiunge e che peggiora lo stato preesistente e qual è la cosa peggiorata, diciamo così? Bene, in entrambi i casi è il sangue, il sangue. L'elemento adulterato è il sangue della donna e l'elemento adulterante è il sangue del partner maschile. Sangue. E perché sangue? Perché gli antichi sono convinti che il seme maschile non sia altro che sangue. È un sangue di tipo particolare. Aristotele dice che è un sangue che ha attraversato un processo di cottura. Da dove viene il seme maschile, secondo Aristotele? Viene da un eccesso di sangue. L'uomo, il cibo, diciamo così, si trasforma in sangue. Di questo sangue una parte serve al nutrimento del corpo, ma c'è poi un eccesso, un sovrappiù, un surplus di sangue. Soltanto che le donne, che per Aristotele si caratterizzano per il fatto di non saper fare una serie di cose, sono caratterizzate da una serie di elementi in negativo, le donne sono fredde e dunque non sono capaci di cuocere questo residuo di sangue. E che cosa se ne fanno? Lo rilasciano mensilmente attraverso la mestruazione. Le mestruazioni non sono altro che il sangue femminile in eccesso, che le donne non sanno elaborare e che dunque espellono perché non gli serve a niente. Invece i maschi, che sono caldi, questo residuo di sangue lo elaborano chimicamente, diremmo noi, e lo trasformano insieme. Ok? Allora, quando avviene un adulterio, che cosa succede? Succede che il sangue del partner maschile, trasformato in seme, si mescola con il sangue della donna. E quel sangue femminile, a quel punto, è un sangue adulterato, perché è un sangue che dentro di sé contiene il sangue che c'era prima, diciamo così, più questo nuovo sangue che viene a mescolarsi irreparabilmente con il sangue che circola nel corpo della donna. Va bene? Questo contribuisce a spiegare una cosa assolutamente singolare e che non ci spiegheremo senza tutta questa premessa, diciamo così, scientifica o parascientifica. E cioè il fatto che, mentre noi in italiano diciamo indifferentemente che un uomo commetti adulterio o che una donna commetti adulterio, questa espressione, come oggi si direbbe, è gender neutral, è neutrale dal punto di vista del genere, si può usare con un soggetto maschio o con un soggetto femmina, invece i romani dicevano che l'uomo adultera una donna e che la donna viene adulterata da un uomo. Cioè quando si parla di adulterio, se il soggetto è maschile il verbo è usato all'attivo, se il soggetto è femminile il verbo è usato al passivo. Una cosa che sarebbe incomprensibile se per i romani l'adulterio fosse la stessa cosa che è per noi, ma se ragioniamo su quello che dicevamo un attimo fa, cioè l'adulterio è propriamente l'inquinamento, la contaminazione del sangue di una donna nel quale è entrato come elemento estraneo il sangue di un altro uomo, ecco che capiamo perfettamente perché una donna può solo essere adulterata, perché la dinamica del rapporto sessuale, che mi consentirete di non ricostruire perché l'abbiamo conosciuta da tutti i presenti, fa sì che evidentemente il trapasso avvenga in una sola direzione e il sangue dell'uomo che entra nel corpo della donna, ma non viceversa, e dunque l'uomo adultera e la donna viene adulterata. Ora, ultimo passaggio di questo ragionamento importante, il punto qual è? Il punto è che quel sangue femminile che normalmente viene espulso attraverso il maestro perché è inutile, c'è un momento però nella vita di una donna in cui diventa straordinariamente importante ed è il momento in cui la donna concepisce, perché il bambino, il feto, l'embrione per gli antichi si forma da due elementi. Uno di questi elementi è il seme maschile, l'altro elemento è il sangue della donna, quel sangue che durante la gravidanza infatti non viene più espulso e quindi sta lì, costituisce un materiale inerte, una specie di stagno, di palude, che potrebbe rimanere lì in eterno se non arrivasse un elemento a vivificarlo, ma una volta che il seme maschile lo, appunto, lo dinamizza, lo vivifica, lo mette in movimento, gli antichi usavano spesso la metafora del caglio, che non sarà particolarmente elegante ma in compenso è particolarmente efficace. Dicevano, è come quando si getta il caglio nel latte per fare la mozzarella o per fare il formaggio, no? Quel latte, se tu lo lasci così, rimane così in eterno. Se tu ci metti dentro il caglio, ecco che il latte si addensa, si addensa e tu puoi usarlo per farci i latticini, appunto. Bene, il seme maschile funziona un po' come il caglio nel latte. Da dove ricavavano i medici antichi questa convinzione? Beh, gli antichi evidentemente non potevano fare ecografie, endoscopie, dovevano fondarsi su quello che vedevano e che cosa vedevano? Vedevano una cosa che era di immediata evidenza persino per gli scarsissimi mesi tecnologici degli antichi e cioè che durante la gravidanza la mestruazione cessa e quindi la loro ovvia deduzione era se quel sangue non viene più espulso evidentemente perché serve e a che cosa può servire? Non può che servire alla creazione di un nuovo bambino. Certo, serve come materia bruta, come elemento inerte, che solo l'intervento del seme maschile vivifica e anima, però comunque serve, indispensabile, ma se quel sangue è un sangue misto, se quel sangue è un sangue sporco, è un sangue inquinato perché non contiene più soltanto il sangue della madre e quello del padre ma contiene anche il sangue di una persona terza. Ecco che l'identità di questo bambino a sua volta è un'identità ibrida, mista, inquinata, contaminata e come se dentro il DNA diremmo noi di questo bambino che nasce ci fosse anche il codice genetico di un altro uomo che non è il padre del bambino stesso. E questo lo dice molto chiaramente proprio nel libro di lì, nel testo, nella ricostruzione di questo racconto fatta da Livio, la dice uno dei protagonisti che sono stati prima ricordati dalla professoressa Urso, Bruto, l'amico che è venuto insieme con Tarquino Collatino, il quale estraendo il pugnale ancora caldo del sangue di Lucrezia che si è appena suicidata, pronuncia un solenne giuramento su quel sangue, dice io giuro su questo sangue che mai più nessuno dovrà essere re a Roma. Quindi giura di essere, di combattere la monarchia fino al momento in cui la monarchia crollerà e così sarà effettivamente. Ma più precisamente il giuramento di Bruto recita io giuro su questo sangue castissimo prima dell'oltraggio subito dal figlio del re. Ante regia minioria ma castissimo. Questo sangue, il sangue di Lucrezia era castissimo, era un sangue immacolato prima dello stupro, adesso non lo è più, adesso quel sangue è un sangue. E allora qual è il problema? E qui concludo veramente. Il problema è questo, che per una donna che veniva al mondo, come abbiamo detto prima, con l'unica e sola missione di diventare moglie e madre di figli legittimi, nel momento in cui non è più in grado di farlo, perché il sangue che era la materia prima fondamentale con la quale doveva portare a compimento questa missione è diventato un sangue sporco, un sangue contaminato, un sangue inutilizzabile per l'unico scopo al quale serve, quella donna è già un cadavere sociale. Quella donna è già morta. Il suicidio non è altro che la presa d'atto del fatto che Lucrezia è già morta, è socialmente morta, non è ancora biologicamente morta, ma è socialmente morta, per la buona ragione che la cultura non ha previsto un piano B per le donne. Non c'è una seconda possibilità. Non è che se non fai la moglie e la madre puoi fare qualcos'altro e campi lo stesso. Quello è l'unico destino di una donna. Quindi una donna che non è più in grado di adempiere a questo compito, a questo destino, non ha più un posto nel mondo, banalmente. Non ha più una collocazione nella sua cultura, nella sua società. Ecco perché Lucrezia si uccide, pur dicendo e sapendo di essere innocente, ma si uccide perché quella uccisione è la presa d'atto del fatto che non c'è più spazio nel mondo per una donna come lei. E capite bene che di fronte a questo anche il discorso che a noi sembra cruciale della volontarietà o involontarietà diventa del tutto secondario. Che Lucrezia lo abbia voluto o non lo abbia voluto sta di fatto che il suo sangue è un sangue non più casto. L'elemento della volontarietà è irrilevante. Conta il fatto che quel sangue è un sangue sporco e come tale non serve più ambiente. Non so, abbiamo ancora qualche minuto o no? Sì, sì, proprio. Sono una considerazione finale e poi se puoi leggere due... Finisci tu. No, no, finisci tu. Faccio finire te. No, perché pensavo a questo statuto bifronte, no? Del suicidio di Lucrezia. Perché apparentemente Lucrezia nel momento in cui si uccide fa per fortuna in sue. Decide lei, no? Di sé del suo destino. E tra l'altro si uccide con un pugnale. È una cosa molto importante perché morire, no? Morire per un'arma, che sia suicidio o no, per effetto di un'arma, morire col ferro, quella è la morte bella, è la morte dell'eroe. Mentre la nonna di solito muore per il piccagione e prima infatti. Non ricordo il suo nome ma insomma ci ha fatto riferimento a questa cosa. Però dall'altra parte Lucrezia, proprio nel momento in cui decide di affermare la sua volontà, aderisce in maniera totale a questo modello sociale che le viene proposto. E qui vorrei chiudere proprio con le parole di Mario perché purtroppo lui ha anticipato l'espressione chiave però vale la pena di leggere questa paginetta anche per farsi un'idea di come scrive. Lucrezia non può non uccidersi, come in effetti farà dopo aver terminato il suo penoso racconto. Il suicidio diventa per lei la conseguenza necessaria di una irrimedibile impossibilità antropologica, quella di una matrona che non può più essere madre, contraddicendo lo stesso significato del titolo che porta. Proprio perché Lucrezia si identifica totalmente con la propria funzione, sin dalla sua prima apparizione nella storia che la riguarda e proprio perché aderisce senza residuo al suo ruolo sociale, non può sopravvivere al venir meno di quest'ultimo. Non ha altre identità se non quella di moglie di collatino e di madre potenziale dei suoi figli legittimi. Alla compromissione di questo ruolo non sopravvive nulla. Solo un corpo irrimediabilmente inquinato è privo di qualsiasi funzione culturalmente significativa. Quello che Lucrezia pugna la morte è già un cadavere sociale. Grazie.